il salto che mi ha fatto mi sono fermato no? il bollino gli manca la montesa la M in mezzo è uguale timbrato a fuoco se non saltava vedevi se non gli passavo sopra va a vedere? ma si c'è il bollino della M montesa adesso se riprovi ti fa la onda dall'altra parte giusto? adesso riprovo la metto di là di qua li ha fatto montesa di là li fa la onda dall'altra parte sai quanto ti manca che roba di aprire? è stato un attimo se no ti passavo sopra è stato un attimo ti passo sopra passa sopra passa giù non è venuto in mente? non è venuto in mente che a valle il piede non ci arriva bravo ma l'importante è quello io ti ho visto arrivare mi tolgo mi tira sotto ero sicuro di venire su forte ha mollato quando ha riaperto ha preso quel sasso là che è venuto via per quello che non ci è arrivato il sasso si è sganciato dalla terra quel poco che li ha preso l'ha preso sul sasso è caduto giù è stato qua lo taciulato quel sasso là è è vicino all'occhio perché c'è sei chi pensava che andavi giù? se voi non l'avete mai pensato questo me lo avete bagnato tutto sì sì è piccato azofra sì questo è facile quando c'è ragazza o primo è sì è sim è un bai